La riapertura di quei reparti che sono stati chiusi all'ospedale Umberto I a causa dei contagi che si sono verificati tra medici e pazienti. Questo emerge da una videoconferenza che si è tenuta nei giorni scorsi, a cui ha partecipato il direttore sanitario dell'ASPO di Siracusa, Anselmo Madeddu, il quale ha informato che in previsione del passaggio dalla fase 1 alla piena fase 2 in cui siamo, dell'attuale emergenza, nella seconda metà del mese di maggio al presidio ospedaliero Umberto I saranno riattivate le unità operative complesse di pediatria con sei posti letto di medicina e geriatria, otto posti letto e stroke unit e successivamente anche un MCAU. Il dottor Madeddu precisa che se il ralentamento della situazione emergenziale dovesse consentirlo, è intendimento dell'azienda destinare il padiglione nord dell'Umberto I, ex malattie infettive e pediatria, ad area Covid per consentire un graduale ritorno alla normalità assistenziale dei pazienti non Covid nello stesso presidio. Per quanto concerne il problema tamponi, il convenzionamento con due laboratori esterni e il potenziamento dell'unità operativa complessa di patologia clinica dell'Umberto I dovrebbero consentire all'azienda di evadere con la massima celerità ogni esigenza assistenziale. Il diattore amministrativo, dottor Iacolino, invece ha ribadito l'impegno del diattore generale a destinare le risorse riservate alla direzione aziendale, cosiddetto fondino, a tutto il personale impegnato nell'emergenza Covid. In buona sostanza le risorse del fondino delle tre aree contrattuali, comparto dirigenza sanitaria e dirigenza PTA, andrebbero a premiare il personale impegnato nell'emergenza appartenente alle tre aree di contrattazione. Sull'ammontare delle risorse, tolto il 5-6% di somme già spese impegnate per lavori svolti, il residuo 95% sarà destinato ai dipendenti direttamente coinvolti. Sarà poi cura dell'azienda presentare al sindacato nel prossimo incontro un prospetto di distribuzione delle somme effettivamente disponibili e del personale coinvolto nell'emergenza. Per quanto riguarda le indennità a malattie infettive, il sindacato ha chiesto che l'indenità venga estesa a tutto il personale impegnato nell'emergenza ricevendo risposta affermativa. Sulla carenza del personale, le fere estive, il prolungarsi dell'emergenza, il sindacato ha chiesto risposte chiare. L'emergenza Covid è costretta e costringerà a carichi di lavoro di gran lunga superiore, spiega la Fialz, rispetto a quelli precedenti. Impegni che non possono essere rapportati e gestiti con l'attuale carenza di organi, con ragione per cui il sindacato ha sollecitato l'azienda a impegnarsi a un piano straordinario di assunzioni, specie con l'approssimarsi delle ferie estive. Per il lavoro a domicilio, su richiesta del sindacato, l'azienda ha dichiarato che, nei limiti del possibile delle esigenze di servizio, continuerà ad avvalersi dell'Istituto dello Smart Working. Grazie a tutti.